Il persistere di un campo di alta pressione sull'Europa centrale con estensione fin sulla Scandinavia determina la continua discesa di aria fredda verso le basse latitudini europee, segnatamente tra i Balcani e la penisola ellenica. Le perturbazioni atlantiche rimangono parcheggiate in pieno oceano atlantico e non riescono ad invadere il bacino centrale del Mediterraneo, anche se nel corso di questo fine settimana una depressione riuscirà ad avvicinarsi alle isole maggiori, determinando su queste due regioni condizioni di tempo instabile con qualche precipitazione. Sulla nostra regione invece avremo un rientro delle correnti fredde dai Balcani, quindi da nord-est, che determineranno un'ulteriore diminuzione delle temperature, ma in un contesto di tempo stabile perché si tratterà di aria fredda ma secca. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani sabato 12 marzo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti segnatamente nelle aree interne e montuose, ma non sono previste precipitazioni. Temperature in diminuzione moderata, venti moderati da nord-est e mare poco mosso sotto costa localmente mosso a largo. Domenica 13 marzo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. temperatura. Temperature senza particolari variazioni con minime prossime a 0 gradi centigradi nelle aree interne, venti tra debole moderati da nord-est e mare poco mosso. Per l'inizio della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad invadere la nostra penisola ricevendo un contributo dal nord-Africa. Dunque ci attendiamo soprattutto tra martedì e mercoledì condizioni di tempo stabile ed un ulteriore aumento delle temperature con valori che molto probabilmente nella giornata di mercoledì relativamente ai valori massimi supereranno la media stagionale, si porteranno di alcuni gradi al di sopra della media stagionale, quindi una situazione di stampo prettamente primaverile. Questa situazione potrebbe modificarsi, quindi avremo un cambiamento probabilmente nel corso del prossimo fine settimana, quindi mi riferisco al 19-20 di marzo, quando l'aria fredda potrebbe prendere nuovamente il sopravvento ma non si tratterà di una particolare ondata di freddo. Ritorneranno i venti da nord-est con temperature che si porteranno di qualche grado al di sotto della media stagionale. Ma di questo occorre riaggiornarsi, pertanto invito i spettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.